Niente? Bene. Caravatta? Guarda che se stai ancora. Eh. Taschino? Perfetto. Ah, bravo. Prego. La bocca? In cinta di nove pollici, complimenti. Eisto, che figura. Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cieco-slovacco non è giunta in tempo. E quindi la proiezione non potrà avvenire. Via! Dove andate? Fermi tutti! In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Serghei M. Einstein, la corazzata Cotionkin. Stasera noto una tensione più vibrante. Si interessano, scambiano commenti. Sì, sì, partecipano, professore. Non si scambiavano commenti. Nel buio della sala correvano voci incontrollate e pazzesche. Si diceva che l'Italia stava vincendo per 20 a zero. E che aveva segnato anche Zoff di testa su calcio d'angolo. 13? Sì! È il turno! Allora, apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini? Calvò? Scusi! Posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantoci! Si accomodi! Finalmente ha trovato le parole! Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni! Dica, dica! Allora? Per me, la corazzata Cotionkin è una cagata pazzesca! Novantadue minuti di applausi! 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 Novantadue minuti di applausi!